Martedì 18 settembre 2018. Mancano 104 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della vergine. La chiesa ricorda Santa Arianna. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Arianna e Riccarda. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Landriscina. L'origine è incerta. Potrebbe derivare da qualche toponimo oppure da un soprannome bizantino indicante un uomo particolarmente femmineo. È un cognome tipicamente pugliese, diffuso soprattutto tra Foggia e Bari con un piccolo nucleo anche in Basilicata. Accadde oggi. Il 18 settembre del 1851 il New York Times inizia le pubblicazioni. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo l'attrice svedese Greta Garbo, nata a Stoccolma il 18 settembre 1905. La citazione da ricordare. Solo quando sia tutto ci si accontenta di poco. Roberto Gervaso. Dice il saggio. La povertà non è un disonore. Il disonore è nella povertà senza ambizione. Proverbio cinese. Un consiglio al giorno. Se la marmellata rimasta nella dispensa si è cristallizzata, non gettatela. Per riutilizzarla basta farla ricuocere con il succo di due limoni per ogni chilo di marmellata.